Quindi, anche nel caso in cui durante vita lavorativa avete versato 12 anni di contributi e quindi ai 67 anni non avete il requisito per richiedere la pensione, avete questa seconda possibilità al compiemento dei 70 anni. Attenzione però al fatto che questa possibilità vale solo se avete iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996. In caso contrario, purtroppo esiste solamente la via 67 anni con almeno 20 anni di contributi versati.